Arrivano le motivazioni della stangata per gli ex vertici della Popolare dell'Etruria. Banca Italia ha stabilito una sanzione pecuniaria di 130.000 euro ciascuno per l'ex presidente Lorenzo Rosi, l'ex vice presidente Pierluigi Boschi e altri tre componenti del CDA di Banca Etruria in carica nell'ultimo biennio, Alfredo Berni, Andrea Orlandi e Luciano Nataloni. Il dettaglio delle sanzioni decise il primo marzo scorso è stato pubblicato oggi da Via Nazionale. Per i membri dell'ultimo CDA nominati si tratta di 78.000 euro ciascuno per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale, a cui si aggiungono 52.000 euro ciascuno per inosservanza delle disposizioni sulla remunerazione e incentivazione. Il totale complessivo delle sanzioni ammonta a 2.236.000 euro. Una sanzione di 129.000 euro è stata invece afflitta all'ex direttore generale Luca Bronchi per carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi. Multe per 121.500 euro ciascuno sono state combinate a Claudia Bugno, a Luigi Nanni Pieri, 52.000 euro invece a Claudio Salini. Sanzioni anche per gli ex componenti del CDA in carica a fine primi mesi del 2014, 69.500 euro a Giuseppe Fornasari, Giovanni Inghirami, Enrico Fazzini, Luigi Bonollo, Giovanni Battista Ciriani e Gianpaolo Crenca. Intanto riprende mercoledì 4 maggio al Tribunale di Arezzo l'udienza preliminare per il primo filone di inchiesta su Banca Etruria, quello che vede imputati per ostacolo alla vigilanza l'ex presidente della Popolare dell'Etruria, Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il dirigente David Canestri. Nell'udienza dello scorso 10 marzo il GUP Anna Maria Loprete si era infatti riservata di decidere sulle numerose richieste di costituzione di parte civile da parte di associazioni di consumatori.